Uè non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi oggi le cose sono incredibili! Abbiamo scoperto con la patch 10.31 della nuova collaborazione di Fortnite X Batman! Sì ragazzi! L'uomo pipistrello! Uè non fare il pipistrello! Sappiamo che Pinnacoli ragazzi verrà sostituita da niente poco di meno che Gotham City! Nella mia pagina Instagram trovate tutte le immagini relative! Come vedete guardate proprio sotto di me in mezzo a Pinnacoli nuovo Rift Beacon! Ringrazio i ragazzi in chat per avermelo fatto notare! Abbiamo già ragazzi anche la schermata di caricamento della settimana numero 8 che come vedete ci mostra chiaramente una Gotham City! E ovviamente oltre a questo abbiamo delle altre notizie relative alla collaborazione di Fortnite con Batman! Ad esempio due standardi e uno spray! Sì perché arriveranno ragazzi delle sfide dedicate al nostro pipistrello preferito con tanto di skin! Hanno trovato nei file di gioco due skin maschili e una skin femminile! Quindi si pensa sia la skin di Batman, forse la skin di Joker e probabilmente la skin di Harley Quinn! Insomma ragazzi questa deve essere veramente una grande grande collaborazione! Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video! Mi raccomando un bel pollicione in su! Iscrivetevi al canale! Noi ricominciamo la live su YouTube alle 13! E poi su Twitch! Ciao! Non mi parte l'altro! Non parte l'altro! Outro! Outro!